Allora, sono arrivato in Nuova Zelanda e questo è il mio primo pasto giapponese, però costa poco ed è intenso che sia molto buono. Questi sono i vari tipi di sushi, sashimi, sushi, questo per esempio era un set sashimi e poi di qua c'è anche una California Roll di sushi, avocado, kumbaba, tobiko, polpa di granchio, maionese e lattuna. Questi sono quelli che ho comprato e queste sono le salse che sto prendendo, sono incluse nel prezzo. Queste sono le cose piccante e questa è la salsa di soia classica. Io sono qua, sono arrivato, sto per imbarcarmi per prendere l'aereo, è molto rilassante la Nuova Zelanda, sono tutti tranquilli in un modo diverso che Hong Kong ed è molto creativa. Ci sono gratis le guide, praticamente puoi scegliere di tutto, dopo ve le faccio vedere, le fotografo un po' o forse le riprendo. Comunque insomma, sto per mangiare, adesso non voglio infastidire troppo con la mia fotografica, però adesso mangerò il liquido. Ciao!